Lunedì doveva essere il primo giorno per i medici di base per ritirare le dosi di vaccino e somministrarle a domicilio agli over 80 non deambulanti e invece le fiale arrivate in ritardo sono rimaste nelle celle frigorifere. Oltretutto dopo lo stop al farmaco AstraZeneca deciso in via precauzionale, l'intera operazione è rimasta in stand by in attesa del parere dell'EMA. A spiegarci la situazione attuale, le prospettive è Dario Bartolucci, segretario provinciale della FING, la federazione italiana medici di famiglia. Avrebbero dovuto darci l'elenco degli over 80 che hanno fatto domanda per essere vaccinati e quelli che non l'hanno fatta, c'è la possibilità che quelli che hanno fatto domanda sul sito di vaccinarsi se ritengono opportuno, se credono, possono disdire dal sito la possibilità e hanno la possibilità di farlo dai medici di famiglia. Questo deve avvenire però 12 giorni prima per dar modo di liberare lo slot di prenotazione. Avrebbero dovuto darci, prosegue Bartolucci, anche le credenziali per inserire le vaccinazioni sul sito delle poste, ma così non è stato. I 270 medici di famiglia convenzionati con l'area VASTA 1 ora rimangono in attesa di nuove disposizioni. Spero che magari la prossima settimana già si possa, magari se ci danno il Moderna oppure se viene sbloccato l'AstraZeneca, ci danno la possibilità di poter vaccinare i pazienti prima, gli ultraottantenni a domicilio, dopodiché gli ultraottantenni che possono venire nel nostro ambulatorio. Quanti sono i medici di base che hanno aderito a questo accordo con la Regione? Diciamo che grossomodo sono l'80-90%, c'è da dire che adesso con quello che è successo con il vaccino Moderna, alcuni medici hanno paura e quindi si chiede uno scudo, diciamo, uno scudo legale. Non è colpa nostra se esistono delle reazioni, quindi non vorremmo essere in questa situazione. Poi appena si potrà partire, spiega il Presidente, nessun cittadino rimarrà escluso. Infatti i vaccini verranno somministrati dall'equip territoriale, cioè quattro gruppi di medici per ogni distretto, Pesaro, Fanno e Urbino, seguite da un coordinatore che si interfaccerà con il direttore del distretto. Se poi ci dovesse essere un medico di base che deciderà di non effettuare le vaccinazioni, i suoi pazienti verranno presi in carico da un dottore dell'equip. State già ricevendo segnalazioni telefonate da parte dei vostri pazienti? Certo, io personalmente, ma anche altri colleghi, abbiamo già cominciato a stilare delle liste, delle liste in cui il paziente telefona e noi prendiamo il nominativo, il numero di telefono, così quando ci sarà l'opportunità di vaccinare la segretaria li richiamerà e stileremo una lista di priorità. Quindi, insomma, si attendono ulteriori informazioni e disposizioni e poi si comincia? Sì, speriamo al più presto, appena ci danno i vaccini, appena ci danno le password, appena ci danno gli elenchi dei pazienti. Grazie. Grazie.